Musica Dopo 5 giorni di coma si è spento all'ospedale di Pescara l'operaio 34enne vittima di un incidente sul lavoro in provincia di Chieti. Donati gli organi, ha aperto un fascicolo. Morto a 55 anni il consigliere Nick Di Michele, politica molisana in lutto. Domani il rientro del feretro, giovedì la camera ardente e i funerali nella chiesa di San Francesco a Termoli. All'Abruzzo oltre 4 milioni per i danni all'agricoltura, Chieti pronta ad intervenire sul dissesto idrogeologico. Costretta a vivere nella paura, vittima di minacce e aggressioni, carabinieri di Boiano fermano il fratello violento. Cinque scuole dell'infanzia di Campobasso cambiano destinazione in mattinata confronto tra l'assessore Luca Praetano, i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico regionale. Officina abusiva sequestrata a Pescara dalla polizia, titolare multato di 5 mila euro. Saranno sanzionati anche i proprietari delle auto in riparazione. Calcio Coppa Italia di Serie D dopo la vittoria sul Termoli, il mister Rosso Blu Mosconi non nasconde il suo entusiasmo. Squadra già in grande forma. Buonasera, ben trovati con l'informazione di Teleregione, lo avete sentito dai titoli. C'è un'altra tragica morte dopo l'ennesimo incidente sul lavoro. Dopo cinque giorni di coma nell'ospedale di Pescara si è spento Mattia, l'operaio 34enne, donati i suoi organi. La magistratura ha aperto un fascicolo. Si è spento dopo cinque giorni di coma l'operaio elettricista di 34 anni, vittima di un incidente sul lavoro in provincia di Chieti. Mattia Finocchio, questo è il suo nome, era in condizioni gravissime ed è stato ricoverato all'ospedale di Pescara, dove aveva subito un dedicato intervento chirurgico. Era stato quindi trasferito in rianimazione e oggi i medici hanno deciso di staccare le macchine. Il 34enne era rimasto gravemente ferito alla testa in un incidente venerdì scorso 25 agosto, mentre era al lavoro, in un'azienda di Mozzagrogna in provincia di Chieti. È stato trasportato inizialmente d'urgenza all'ospedale di Lanciano, poi alla neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto un intervento chirurgico. Ma le sue condizioni erano disperate fino alla sua morte celebrale. È stato aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali irresponsabilità penali. Mattia è stato particolarmente sfortunato, stava tornando a casa dopo aver completato il suo lavoro, ma era tornato nell'azienda per riprendere un attrezzo quando è stato colpito alla testa da una barra di ferro in seguito allo scoppio di un tubo. Il suo paese torna a Reccio e sotto shock. Alcuni eventi erano già stati annullati. Siamo tutti affranti per questa tragedia, ha commentato il sindaco Nicola Iannone. L'intera comunità è stretta al profondo dolore della famiglia. Gli organi di Mattia sono stati donati. E ora ci occupiamo della morte di Nic Di Michele, consigliere comunale. Aveva 55 anni, la politica molisana è in lutto, tantissimi i messaggi di cordoglio. Tragedia nella notte a Parma, un malore improvviso ha stroncato a soli 55 anni la vita di Nic Di Michele, consigliere comunale di Termoli, per anni simbolo del Movimento 5 Stelle, da cui si era recentemente allontanato dopo l'esito delle ultime elezioni regionali. La notizia della sua tragica ed improvvisa scomparsa ha scosso la politica e quanti lo conoscevano e apprezzavano nella vita e sul lavoro. Nicolino Di Michele si trovava a Parma, dove lavorava come comandante del reparto di polizia penitenziaria. Era originario di Ururi, ma termolese di adozione lascia la moglie, Maria Grazia, e un figlio di 21 anni. Il consigliere è stato in questi ultimi anni un pungolo per l'amministrazione comunale termolese, fautore di tante storiche battaglie, in primis quelle ambientaliste. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti appena trapelata nella notte la notizia della sua tragica scomparsa. Ho dei bellissimi ricordi, abbiamo condiviso cinque anni di opposizione al comune di Termoli, seduti fianco a fianco, quando per lui era la prima volta che veniva eletto in consiglio, ricorda il presidente della regione, Francesco Roberti. Gli riconosco una profonda onestà intellettuale, sempre disponibile al dialogo e pronto a farsi carico delle stanze e dei cittadini. A Franti ha commentato il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano dalla notizia, esprimo a nome dell'amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia. Dolore per la sua scomparsa è stato espresso anche dal coordinamento sindacale penitenziario. Ciao Nick, scrive il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, hai lasciato tutti senza parole, ricordo bene il nostro ultimo abbraccio. In tutti questi anni l'intera comunità del Movimento 5 Stelle Molisano ti ha stimato e voluto bene. Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva, le parole del consigliere Roberto Gravina, che ha espresso vicinanza alla moglie, al figlio, alla sorella e a tutti i familiari per questa dolorosa perdita. E rientrerà nella serata di domani a Termoli il ferretro del 55enne consigliere comunale, la cui scomparsa ha sconvolto la comunità termolese non solo. La camera ardente sarà allestita giovedì mattina nella casa funeraria Iovine di Via Egadi, mentre i funerali saranno celebrati, sempre a Termoli, nella chiesa di San Francesco, giovedì pomeriggio 31 agosto alle 16.30. E Don Benito Giorgetta ha ricordato commosso Nick Di Michele, lo ha ricordato quando un anno fa era in sua compagnia in occasione della presentazione del suo libro nel carcere di Parma, lo ha intervistato il collega Emanuele Bracone. E' certamente una notizia che lascia l'amaro in bocca, lascia il cuore un po' arido, perché è una notizia della morte di un 55enne, quindi una sciagura dal punto di vista anagrafico, ma soprattutto dal punto di vista amicale, dal punto di vista della sua professione, dal punto di vista di quello che lui è stato per la città di Termoli. Mi sono premurato di telefonare immediatamente all'Ispettore Generale dei Cappellani d'Italia, che si è reso presente partecipe e quindi esprime anche il suo cordoglio alla famiglia. Però sono stato anche raggiunto dal Cappellano di Parma, dove ero stato l'anno scorso proprio di questi giorni, per la presentazione del libro. E il Cappellano mi ha testimoniato che Nicolino era un uomo generoso, era un uomo dinamico, ed era rammaricato e dispiaciuto perché proprio ieri gli aveva fatto riparare le luci della Cappella. Mi onorava della sua amicizia, spesso scherzavamo, ridevamo. Ricordo quando era presente nel carcere di Larino, ogni volta che io andravo, di solito ogni sabato, per il mio volontariato, mi fermavo sempre a parlare con lui. E cambiamo argomento, il Governo ha dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza per le regioni colpite dal maltempo, fra queste c'è anche l'Abruzzo. Ieri, dopo la relazione del Ministro Musumeci, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per gli eventi meteorologici verificatosi tra maggio e agosto 2023. Tra questi anche l'Abruzzo, dove per le province di Teramo, Pescara e Chieti sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro, ma non sono gli unici problemi che ha portato il cambiamento climatico. Anche la siccità ha causato molte difficoltà, in particolare all'azienda agricola e il Comune di Bellante, per informare le attività produttive del settore sulle opportunità di PNRR e GAL, ha organizzato un confronto nella sala consigliare. Noi abbiamo un territorio prevalentemente agricolo, sono circa 50 chilometri quadrati, con circa 250 imprese agricole scritte alla Camera di Commercio e quindi ci interessa che i nostri agricoltori possano sfruttare e possano almeno conoscere tutte le opportunità che si presentano. Ci sono state delle problematiche che vi hanno fatto presenti appunto le imprese agricole? Sì, è un settore notoriamente in crisi, specialmente per gli allevatori, quindi adesso GAL sta predisponendo la nuova programmazione 2024-2027, in più noi collaboriamo anche con l'associazione di categoria e la CIA, unica associazione del settore, che sta lavorando sui fondi PNRR. Un'altra cosa che faremo con l'incontro di domani, c'è una nuova problematica per quanto riguarda i pozzi, i pozzi privati. Ci stanno facendo dei controlli, ci sono le verifiche, ci sono anche delle multe e quindi vogliamo portare un'informativa anche su questo per permettere ai possessori di pozze di mettersi in regola. Siamo in attesa di conoscere la cifra esatta per calibrare gli interventi possibili, così il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha commentato lo stanziamento dei fondi deciso dal Consiglio dei Ministri. Vogliamo considerarlo un primo riscontro alla nostra richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per il dissesto idrogeologico a fronte delle criticità dell'area di via Arenazze, via Gran Sasso e delle altre zone cittadine interessate dal fenomeno e che ammonta circa 100 milioni di euro, fondi che ci consentirebbero di intervenire e sostenere la cittadinanza con i conseguenti ristori. Aspettiamo l'ufficialità per renderci conto degli interventi possibili che sono tanti, imponenti e che da solo il Comune non può sostenere, ha concluso il sindaco di Chieti. E siamo alla cronaca, circolava Pescara in bicicletta con 50 kg di rame appena rubati nei guai un 41enne senegalese fermato dai carabinieri. Sentiamo Valentina Ciarlante. Una miniera di rame, quella in via Raiale a Pescara, presa di mira da malviventi intenzionati a creare un vero e proprio business. È lì che ha agito il 41enne senegalese fermato dai carabinieri di Pescara nelle scorse ore. L'uomo aveva appena fatto un carico da 50 kg di rame quando è stato sorpreso e bloccato dai militari dell'arma. Circolava in bicicletta in via Riosparto ed era in possesso del grosso quantitativo del cosiddetto oro rosso. Dopo l'identificazione è emerso un curriculum chiaro con numerosi precedenti specifici. Dai controlli approfonditi dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia pescarese è emerso che il rame era stato rubato nell'ex cementificio che da tempo versa in stato di abbandono. Il 41enne è finito nei guai con l'accusa di ricettazione e il servizio compiuto dall'arma rientra nell'ambito del piano sicurezza intensificato nei mesi estivi. La polizia ha sequestrato un'officina abusiva in centro a Pescara e gestita da un 50enne residente in provincia che esercitava attività di riparazione di cicli e motocicli senza le previste autorizzazioni. Il titolare è stato multato con oltre 5.000 euro. Le attrezzature utilizzate sono state sequestrate e inoltre sono in corso gli accertamenti della polizia per verificare l'eventuale provenienza delle componenti meccaniche di carrozzeria oltre all'identità dei proprietari dei veicoli affidati in riparazione anche essi rischiano una sanzione. Ci spostiamo a Boiano. non potrà avvicinarsi alla persona offesa ai luoghi da questa frequentati e alla misura emessa dalla procura nei confronti di un fratello violento denunciato dalla sorella costretta a vivere nella paura vittima di minacce e aggressioni. Ci dice tutto Samantha Ciarla. Ancora una storia di violenza tra le mura domestiche e una quotidianità fatta di maltrattamenti familiari aggressioni e minacce che hanno spinto una donna a denunciare i carabinieri di Boiano il fratello diventato il suo aguzzino. Condotte tali, scrive la procura da costringere la donna a vivere in una condizione di paura per la propria incolumità. Una spirale di violenza interrotta nella giornata di ieri quando i militari hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso sul richiesta della Procura della Repubblica nei confronti dell'uomo accusato di molestare, minacciare e aggredire la sorella e il figlio minore. Nei confronti del fratello violento è stata emessa la misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ai luoghi da questa frequentati. Indagini che si inseriscono nell'ambito del cosiddetto codice rosso espressione divenuta tristemente frequente nelle cronache locali e non solo. La vicenda, si legge nella nota diramata dalla Procura guidata dal dottor Nicola D'Angelo rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni il cui contrasto capillare tra gli obiettivi di questa Procura è doveroso e necessario anche al fine di prevenire reati più gravi. Un incendio è divampato all'ex stabilimento Laterizi di Termoli la cosiddetta vecchia fornace ormai dismessa da tempo. Il fumo è ben visibile dalle palazzine circostanti di via Pertini e dintorni sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare che si propaghino in città c'è preoccupazione perché a causa del vento forte che sta soffiando oggi su Termoli l'odore acre di fumo e alcuni lapilli di cenere sono arrivati anche in centro. E ora ci spostiamo all'Aquila l'apertura della Porta Santa nell'ambito della 729esima edizione della perdonanza celestiniana è avvenuta dopo la Santa Messa presieduta da sua eminenza Marcello Cardinale Semeraro sentiamo Sabrina Giangrande L'apertura della Porta Santa nell'ambito della 729esima edizione della perdonanza celestiniana è avvenuta nella città dell'Aquila nonostante le condizioni meteo e avverse hanno in parte disturbato l'evento Era da prima del terremoto che il corteo della perdonanza non partiva da questo luogo dalla casa degli Aquilani che è Palazzo Margherita la sede, la principale sede municipale non è solamente un dato fisico cioè della riconquista di un pezzo di patrimonio pubblico di questa città ma anche un grandissimo valore simbolico Sindaco, 729 anni lo scorso anno è stata aperta da Papa Francesco Per la prima volta da 729 anni la Porta Santa è stata aperta da un Papa è stato un momento straordinariamente il più importante della storia recente di questa città e il dono di Papa Francesco non va disperso dobbiamo sempre essere all'altezza del grande valore che ha questa manifestazione questa ricorrenza la dobbiamo custodire gelosamente e coltivare con attenzione e con intelligenza Dopo la Santa Messa preceduta da sua eminenza Marcello Cardinale Seneraro in una affollata basilica di Santa Maria di Collemaggio il rituale religioso viene espletato bussando per tre volte alla Porta Santa con il ramo d'olivo e ora ci occupiamo di scuola il 14 settembre si torna in classe a Campobasso le 5 scuole dell'infanzia da demolire cambiano destinazione questa mattina si è svolto un confronto tra l'assessore all'istruzione Luca Praetano i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico regionale per i bambini di un plesso quello di via Berlinguer via Crispi l'attività didattica potrebbe slittare agli inizi di ottobre sentite il 14 settembre si torna in classe cambieranno sede gli alunni di 5 scuole dell'infanzia di Campobasso oltre ai piccoli dell'asilo nido Bianconiglio che riprenderanno l'attività didattica all'istituto Petrone le soluzioni relative al trasferimento dei bambini degli asili abbattuti o da abbattere per motivi di sicurezza sismica sono state definite dall'amministrazione comunale in accordo con i dirigenti scolastici che questa mattina sono stati convocati dall'assessore all'istruzione Luca Praetano che li ha incontrati assieme alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Forte partendo da via De Gasperi Scuola Montini in via Piave l'edificio è in fase di realizzazione o meglio di adeguamento mentre per quanto riguarda la colozza di via Berlinguer via Crispi si trasferirà in via in Sorte d'Ungheria alle spalle del centro commerciale di Cotà per quanto ne concerne invece la scuola di via Iezza si trasferirà all'interno dell'edificio di via Gorizia del comprensivo Dovidio comprensivo Dovidio che è interessato anche per altre due scuole via Tiberio e via diciamo via Berlinguer e via Crispi si trasferiranno entrambe all'interno di un edificio di via Garibaldi l'attività didattica potrebbe dunque slittare per gli alunni di via Berlinguer e via Crispi che faranno lezione in uno stabile di via Garibaldi dove i lavori inizieranno in ritardo a causa di problemi legati alla consegna del materiale non dipende da noi dipende purtroppo dal fatto che nel periodo di agosto le imprese hanno chiuso tra l'altro se sarà necessario c'è l'accordo affinché lavorino anche sabato e domenica e se è necessario di notte e cambiamo argomento sono 18 i comuni abruzzesi che si sono uniti per valorizzare il vino il settore vitivinicolo sta subendo una crisi a causa di eventi patologici di un batterio che sta colpendo duramente la vite molti comuni della provincia di Chieti hanno chiesto alla regione Abruzzo il riconoscimento dello stato di calamità naturale come sottolinea il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani intervistato per noi da Pasquale Damiani Ernesto Graziani sindaco di Paglieta sono 18 le città abruzzesi che sono unite per valorizzare il vino il vino abruzzese che ha bisogno però anche di aiuti concreti beh sì soprattutto in un periodo come questo perché il settore vinicolo ma in generale direi l'agricoltura ma ripeto in particolare quello vinicolo sta subendo una crisi mai conosciuta in passato a causa di eventi diciamo così patologici legati alla peronospera che è un batterio che sta colpendo duramente la vita e la provincia di Chieti è quella più colpita da questa sciagura tant'è che il mio comune ma assieme a tanti altri comuni abbiamo deliberato all'unanimità devo dire quindi sia la maggioranza ovviamente che tutta l'opposizione di chiedere alla regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale che prelude all'erogazione di risarcimento di somme che possono in qualche misura compensare il danno subito a Pescara è tutto pronto per la rievocazione della storica Coppa Acerbo sabato nel centro cittadino sfileranno Barchette e Ferrari una prova generale per il centenario della vittoria di Enzo Ferrari nel Gran Premio della Formula 1 che si svolgeva proprio nella città abruzzese alla presentazione dell'evento ha partecipato Valentina Ciarlante è la rossa più affascinante d'Italia ma questo modello in particolare è davvero unico perché è dedicato alla vittoria che Enzo Ferrari maturò proprio qui a Pescara quasi cento anni fa e nel 2024 tra pochi mesi ricorrerà questo importante anniversario l'Old Motors Club è pronto a celebrarlo intanto le prove generali saranno col circuito di Pescara il prossimo 2 settembre 20 barchette 25 Ferrari saranno impegnate in una gara di regolarità davvero affascinante che è stata presentata qui nel Palazzo di Città in Piazza Italia nel primo pomeriggio la corsa arriverà in Piazza Duca degli Abruzzi per proseguire sull'antico tracciato del Gran Premio ancora oggi il più lungo del mondo poi in serata la gara di regolarità con lo start da Piazza Primo Maggio una festa e un tripudio di colori ecco quello che sarà l'evento conclusivo dei percorsi d'Abruzzo Kermesche comprende anche le tappe di Chieti e Teramo ospite d'eccezione Cesario Florio team manager tra i più noti al mondo artefice della vittoria della Lancia al campionato del mondo una manifestazione che rievocherà la storica Coppa Cerbo e che ha ottenuto il supporto della regione con in testa il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del comune di Pescara pass speciali per il sindaco Carlo Masci e per l'assessore allo sport Patrizia Martelli c'è una tradizione consolidata tra Pescara e le quattro ruote che oggi le mettiamo in evidenza attraverso questa iniziativa della Old Motors che riguarda tutta la regione Abruzzo ma che a Pescara ha un punto focale proprio perché c'è questa caratteristica unica della nostra città che vogliamo conservare preservare e mettere in evidenza anche come richiamo turistico visto che ci avviciniamo al 2024 dove ci sarà il centenario della Coppa Cero 25 km e mezzo di circuito dove ha vinto naturalmente Ferrari nel 1924 stiamo ospitando questo grande evento in attesa del centenario che ci sarà apposta l'anno prossimo e siamo tutti pronti per dare onore alla città di Pescara ma soprattutto a tutti gli appassionati dell'automobilismo le barchette e le Ferrari sfileranno su via del circuito su via Enzo Ferrari nomi simbolo della passione dei pescaresi per i motori come hanno sottolineato Walter Tirimacco delegato per l'Abruzzo del Ferrari Club Passione Rossa e Fabio Di Pasquale presidente dell'associazione Old Motors Club che ha ideato l'iniziativa questa terra ha visto non solo la Coppa Cerbo che è uno dei circuiti più amati e conosciuti del mondo ma ha visto anche i natali dell'inventore della Vespa che è Corradino da Scania quindi gli abruzzesi sono persone molto legate ai motori e sono appassionati di auto di moto e di qualsiasi cosa abbia un rombo e ora le previsioni del tempo Previsioni del tempo di mercoledì 30 agosto sull'Abruzzo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata con deboli piogge venti deboli mare mosso vediamo nel dettaglio le temperature l'Aquila minima 13 massima 20 gradi Pescara 17 29 Chieti 15 28 Teramo 16 26 gradi Sul Molise tempo variabile con deboli piogge esaurimento serale e ampie schiarite Campobasso minima 14 massima 24 gradi Isernia 11 25 Termoli 20 28 Venafro 13 25 gradi Ed è tutto con la nostra informazione io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo sempre che potete restare aggiornati sui nostri social Facebook Instagram e Youtube non cambiate canale perché dopo un po' di pubblicità ci sarà la rubrica sportiva ben trovati con lo sport di Teleregione parliamo di calcio di serie D e parliamo della vittoria del Campobasso sul Termoli nel turno preliminare di Coppa Italia felice per quanto i suoi hanno saputo fare il trainer rosso-blu Andrea Mosconi non nasconde il suo entusiasmo per le risposte ricevute domenica dal gruppo ma sentiamo le sue dichiarazioni al microfono di Vincenzo Ciccone Una prova di grande spessore il miglior modo per iniziare la stagione Andrea Mosconi tranne del Campobasso è felice per l'atteggiamento dei suoi che nel preliminare di Coppa Italia contro il Termoli hanno dimostrato già una buona condizione atletica La squadra sta bene non abbiamo rischiato nulla è normale sono stato un attimino penalizzato sui campi per l'ammunizione perché era meglio non rischiare perché con gente esposita è un attimo prendere il secondo giallo però i ragazzi hanno risposto bene sono contento hanno fatto un'ottima gara tutto a parte i primi 7-8 minuti poi penso abbiamo fatto due grandi gol e tre quattro azioni travolgenti Entusiasta il tecnico lo è anche per il sostegno dei fedelissimi rosso-blu Io sono fatto così io dovevo allenare mi devo sentire a città mia squadra mia se no faccio fatica io mi sento da parte dei tifosi e cercherò sempre di onorare la maglia e fare dare tutti ai ragazzi è un inizio di un percorso è un vietto da visita bello per un derby tra virgolette però è normale dobbiamo migliorare perché partite così quando il secondo tempo è una partita tranquilla non abbiamo rischiato di riaprire gli ultimi 10 minuti ingenuamente però va bene meglio adesso che durante il campionato Più in generale così quella vissuta è stata a tutti gli effetti una domenica soddisfacente è una partita che andava a Iusa andava a Iusa sono contento perché questo magari può essere tra virgolette il bietto da visita nostro verso la città di Campobasso quando i tifosi a fine partita hanno detto che ci vogliono così noi cercheremo sempre di rispettare a dare tutto per questa maglia ci teniamo tantissimo penso che sia visto i ragazzi sono un gruppo di ragazzi eccezionali ci dovevamo iniziare bene penso che sia alla fine una vittoria meritata primo giorno di lavoro ieri per il CLN Cus Molise e il rosso blu di Marco Sanginario sono pronti a proiettarsi sulla prima uscita in campionato prevista tra un mese in Calabria il servizio un incontro tra squadra e vertici dirigenziali il CLN Cus Molise ha aperto in questi termini la sua nuova stagione la prima del nuovo torneo di A2 Elite di Futsal che vedrà il quintetto di Marco Sanginario allinearsi al via con un organico che o mixtra new entry di rilievo ritorni come nel caso di Turek ed una base sostanziosa di confermati ad introdurre il gruppo ai vertici del club rosso blu lo stesso trainer Marco Sanginario poi il presidente dell'OMO il team manager Nicola Cesare ed il direttore generale Gilberto Grigoli hanno incoraggiato il team proiettandolo su quello che sarà il torneo in arrivo per il quintetto del capologo di regione nella prima sessione di lavoro tanta attenzione all'aspetto fisico sul parquet del Palau Unimol da quest'oggi e per l'intera settimana il gruppo sarà chiamato da una serie di doppie sedute per proiettarsi poi verso quelli che saranno gli impegni di precampionato tappa di avvicinamento alla prima di regular season in casa dei calabresi e della polisportiva futura venerdì 29 settembre con appuntamenti poi il 3 ed il 7 ottobre nell'ambito della Coppa della Divisione e continuiamo a parlare di calcio a 5 presentata a Montagano nel corso della festa del pomodoro la formazione di calcio a 5 che parteciperà al prossimo torneo regionale di Serie C sono emerse prospettive di alta classifica per il gruppo sportivo dilettantistico Montagano calcio a 5 durante la presentazione della squadra il presidente Giovanni Petrone il sindaco Tullo nel salutare il pubblico hanno ribadito l'importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale e come veicolo di promozione dei territori la formazione che parteciperà nella prossima stagione agonistica al campionato regionale di Serie C ha come detto importanti obiettivi la squadra diciamo che rinasce da una bella stagione fatta l'anno scorso ci sono nuovi innesti ci sono nuove prospettive ci sono nuovi giovani di Montagano l'anno scorso qualche piccola soddisfazione ce la siamo tolta quest'anno non voglio esagerare però comunque puntiamo a fare una bella figura in campionato e puntiamo anche a magari a guadagnarci playoff intanto l'allenatore Maurizio Piacci pensa di affrontare così il campionato l'annata sarà strutturata soprattutto su un bel gruppo che dovrà innanzitutto divertirsi il risultato sportivo sul campo ovviamente è importantissimo e cercheremo ad ogni modo di onorare la stagione e ringraziare la società per tutto quello che ci metterà a disposizione e ora il basket di serie 1 femminile la molisana Magnolia a campo basso continua a lavorare sodo in vista della nuova stagione tra le conferme del gruppo affidato a coach Mimmo Sabatelli la capitana Stefania Trimboli Francesco Presutti ne ha accolto le impressioni nello scenario dell'arena Stefania Trimboli capitano riconfermato Stefania terza stagione consecutiva per te sì terza stagione c'è molto entusiasmo oggi come oggi il primo giorno mi ha fatto i primi allenamenti e al momento c'è un bel gruppo poi ovviamente abbiamo tutta la preparazione per puntare sulla coesione del gruppo come vedi le tue compagne primo giorno avete rotto il ghiaccio esatto abbiamo rotto il ghiaccio quindi ora come ora non mi esprimo perché è tempo al tempo quindi vedremo Nello scorso è stata una stagione particolare Stefania qualche rammarico magari dopo aver vinto gara 2 nei playoff con Schio Beh onestamente io ci ho creduto ci ho creduto fino alla fine poi ovviamente perdere con Schio che poi ha vinto lo scudetto alzo le mani non possiamo fare niente a posteriori però ce la siamo giocata e sono molto orgogliosa della nostra reazione dopo gara 1 contenta di essere rimasta qui con quali motivazioni molto contenta sono l'obiettivo di ogni anno è migliorarsi sono contenta di poterlo fare qui a Campobasso perché è una società molto ambiziosa che cresce anno dopo anno quindi sono molto contenta orgogliosa di poter rimanere un altro anno qui e tutto un'ultima considerazione Stefania sul pubblico anche le tue compagne le new entry per così dire conoscono bene il pubblico della Molisana Rima certo il pubblico di Campobasso è conosciuto credo in tutta Italia perché è uno dei migliori almeno a detta mia è probabilmente il migliore invito il pubblico a venire al palazzetto perché abbiamo bisogno di loro queste ragazze sono nuove e hanno bisogno di conoscervi quindi vi aspettiamo tutti qua con le sue qualità tra prima e seconda linea sarà chiamato ad essere l'equilibratore degli Spike Devils Campobasso il laterale di Ferrara Andrea Masotti è pronto a vivere la sua prima avventura al centro-sud proprio col sestetto Molisano queste le sue prime impressioni al microfono di Teleregione Andrea Masotti l'anno scorso per questioni Andrea lavorative sei stato in C ma tu hai tanta esperienza anche tante stagioni in A3 sì è vero l'anno scorso ho fatto una scelta un po' extra pallavolo però ho subito deciso di rimettermi in gioco per cui ho scelto di cambiare un attimo e anche poteva farmi bene anche cambiare proprio zona e andare via di casa per rimettermi in gioco conoscevi già alcuni ecco nuovi tra virgolette di questa di questa squadra tipo i due giocatori che hanno come iniziale la Z esatto loro tra l'altro dove vengo io la Z non viene pronunciata proprio benissimo comunque li conosco molto bene abbiamo affrontato insieme seppure loro sono qualche anno più grandi le giovanili la Modena per cui li conosco molto bene sì un giudizio su questo raggruppamento tante squadre laziali alcune campane poi c'è la Energy Time sì ecco io è un girone che non conosco ammetto benissimo comunque noi lavoriamo ovviamente al meglio e indifferentemente da chi ci troviamo dall'altra parte del campo noi dobbiamo sempre dare il massimo anche perché la Serie B è comunque un camminato molto lungo è complesso e non si può mai permettere di abbassare la guardia certo è un raggruppamento e non solo quello del girone G ma comunque il campionato di B è un campionato particolare se vogliamo dai perché è lunghissimo e poi è molto difficile da affrontare ogni squadra va presa con le dovute attenzioni esatto sì noi dobbiamo lavorare sempre per tenere sempre un certo ritmo ovviamente alto per cui sappiamo tutti l'obiettivo che questa società questa squadra per cui lavorare sempre a ritmi più che si può al 100% il preparatore fisico e fisioterapista venafrano Walter Primavera entra nello staff tecnico della New Fortitude Isernia quintetto impegnato nel torneo cestistico di Serie B interregionale Primavera sul fronte del basket impegnato anche con le nazionali giovani di azzurre nel ruolo di fisioterapista e questa era la nostra ultima notizia vi ringrazio per averci scelto arrivederci notizia vi ringrazio Grazie a tutti.